Paolo Carabambacci, Carabambacci Paolo! Paolo Carabambacci, Carabambacci Paolo! Paolo Carabambacci, Carabambacci Paolo! Mi piace, no? È bello, il camper è bello perché penso proprio di affittarlo, no? Per quest'estate ma me lo puoi liberare, mi liberi dal camper, Carabambacci! Deve stare calmo, respiri e si rilassi, che ora gli do le istruzioni per liberarsi. Alzare il braccio destro in alto, area nord nord-est, con le salvetti per meglio Monteserra. Afferrare e tirare con forza in alto. Mi dica, mi dica! Allora uno, sono stressato, due, sono stressato, vorrei una vacanza, mi rilassi, non voglio il telefonino, non voglio l'iPad, 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 l'iPad. Io vorrei un camper, un camper, la natura, l'Italia è bella, l'ho girata tutta. La vorrei visitare nei campeggi, nei lacchi, nei fiumi, volare, comprare la filonia. Ho bisogno di un camper, e tu sei pieno di camper, ho visto, qui è pieno di camper. Allora vorrei portare la famiglia, cioè, da una seringata alla mia moglie perché non ci può venire però che... Eh vabbè, io ce la porto. La mia moglie, il cane, il bambino e il surf, e le bicchette dietro, e il motorino lo voglio dentro il bagno, ci sta per rito il motorino. Io vorrei sapere, può guidare la mia moglie? Io guido il camper. Però la mia moglie può guidare un minuto, due minuti? Il cane, tante volte stiamo male, può guidare il camper e riportarlo in? No. Va bene. Allora tu mi chiederai, il periodo, il periodo lo decido io. Il periodo, se io sono stressato a luglio, o non sono stressato ad agosto, o ci voglio andare a settembre anche se piove. Ma è colpa mia se a settembre la stagione già non c'è più, che la temperatura a sera ci vanno due felpe. Allora io dico, settembre va bene settembre, però lo devo decidere io. Non è che te mi devi imporre il periodo. Oh calma, cioè, ognuno ha il suo ruolo, ti affetti camper, mica mi devi programmare la vacanza. Dici te, la vacanza è tua, la vacanza è mia. Io ai soliti li do, ma io voglio essere libero come un camper. Essere bello, essere libero come un camper. Forse una cosa l'ho capita. A lui gli ci vuole un camper. Ciao, ciao. Grazie a tutti.